Benvenuti sul mio canale, io sono Frico e quest'oggi continueremo in The Diver Vediamo, alla branch, no, facciamo così direttamente Ok Sì Ecco, non abbiamo nulla Adesso ci penso io a farglieli preparare Quindi, vediamo, abbiamo delle missioni dell'EcoWeather da completare, che è questa, e basta, per favore Alla faccia Allora Abbiamo un pesciolone gigante, giusto qua Sì Ma quanto lo vendo, giusto per curiosità 350, non è vale la pena venderli Cioè, mi faccio più soldi cucinandolo Sushi Bene, è arrivato il momento di migliorare lo staff Fino a livello 10 tutti Ok Non lo scivolo da darvi, vero? Sì No Non ne ho neanche uno Peccato Va bene, possiamo teoricamente andare a finire il gioco Non so se voglio farlo, però 175 in best taste Andiamo ad andare al sushi Non credo di poter potenziare roba E' arrivato molto lontano col taste, però non abbastanza Ok Questa non mi dispiace, no? Abbiamo un po' di look Ok ma se ok abbiamo rinnovato anche il nostro locale più carino adesso che siamo un branch dobbiamo avere una certa ma certa identità se semi buono appartiene bene ma la farm ok non male in realtà dobbiamo comprare i nutrienti per quello si è staccato un po' di roba ok attaccando i livello 3 direi expand field a livello 3 devo comprarne 10 ok ok perfetto direi che può andare così adesso alla barca prima di chiudere la storia in realtà volevo arrivare almeno a livello diamante chissà se riusciremo catturare molti pesci dobbiamo catturare molti molti pesci ok a noi due freezer aiuto ok tu sei una delle mie portate principali al ristorante al ristorante ma culo eh pensavo di avermi fregato eh ok ok vediamo cosa c'è qua figo però non è quello che voglio il mio intento rimane sempre quello a prendere più carne possibile prendere più carne possibile ma non voglio mi sto divertendo perché devo sfinire un gioco quando mi sto divertendo non può durare ancora adetti vediamo un pochino vediamo un pochino credo comunque che me lo porterò come gioco rilassante da fare quando non entra da da giocare quando non entra da fare off screen senza registrarlo credo che sarà uno dei giochi uno dei miei giochi preferiti di quest'anno chi lo sa me l'hanno appena iniziato quando guardate questo video forse no però mi sto perdendo qua dentro non è bella pena addormentato due tre colpi volevi ho sbagliato io x y x ok ma cosa c'è scuba male schifo non mi fa di certo qua c'è l'ossigeno che abbiamo perso se riuscissi a trovare delle munizioni sarei anche contento eccola è la una foto quattro cartone tutti insieme dobbiamo aspettare che facciamo il giro quindi questi cazzi dei punti bonus quello un rubino mi ha dato fuoco bello se potessi muovermi così sotto acqua sempre ma quello cos'è oh si è per scatturare si quanto addormentato se avessi cambiato arma magari lo scopriremo ok trappola mettiamolo di questi sì perfetto dentro cosa c'è oh yes scuba aspetta che attacchi aia senza morire possibilmente esagerato vai su off yb vediamo è addormentato no non funziona x ah questo sì però 18 su 25 25 ok 1 22 22 facciamo una foto questi cazzi ok andiamo a vedere cosa ho pescato non male non c'è sempre creatura non c'è sempre creatura ancora una 4 o 1 me ne manca dai così già no facciamo attenzione ok facciamo armi arpione di fuoco più danno sì andiamo a riempirci alimentario e poi andiamo via questo un bon bottino perché 180 va bene possiamo andare ok ok sto chiamando per la ok ti piace 750 750 1000 non male quindi sushi ciao ricetta segreta martufo carri e direi va bene peccato non mi bastano per niente ancora ancora un po' distratta da fare ma un po' un po' un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Direi di fare un timeskip? Sì. Andiamo alla farm. Sì. C'è un bel po' di roba da raccogliere. Ok. Ottimo. Ora, due. Non posso comprarmi niente. Sono povero come la merda. Vediamo. Ecco, weather. Non mi dice cosa fa però. Ecco, waterproof bag. Chissà. Sushi. Volevo, in realtà... Vediamo come siamo messi col marinka. Poi ci manca la tartaruga. Poi ci manca uno schifo notturno. È un boss. Ok. Ci manca ancora un po' di roba. Cioè, io in realtà penso che potremmo continuare... continuare a fare le missioni, però... Vediamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei progetti. Ok. Menù. Stavolta andiamo per prezzo. Cinque, due, quattro, cinque, sei, dieci. Apriamo. Un altro, due, quattro, cinque, sei progetto è vero. Websabi, 1, 2, 3 Vai la bela, vai la bela, vai la bela lo scoglio qua ok 5545 ci siamo cavati abbastanza bene ok che riparti stanotte va bene ragazzi noi ci salutiamo qua e ci vediamo al prossimo episodio sempre qui sul mio canale ciao a tutti